Siete pronti? Puoi fare che gli va e le pietre prenderai senza vita, tutti insieme, sarà così, finché vivrai, sarà così. Se sei nero ti tirano le pietre, se sei romano anche ti tirano le pietre, qualunque cosa fai capire tu non puoi che bene o male è quello che tu fai. E tu sei ricco e ti tirano le pietre, non sei ricco e ti tirano le pietre, tu al mondo non c'è mai qualcosa che gli va e le pietre prenderai senza vita, tutti insieme, sarà così, finché vivrai, sarà così. Bravissimi, bravissimi, il prossimo spettacolo lo facciamo tutti insieme. Adesso voglio fare un'altra cosa che è importantissima, dobbiamo fare degli auguri. Facciamo degli auguri a un signore, adesso non so se ne faccia 25 o 28, che è stato molto importante anche lui per la vittoria di Giuliano. Si chiama Paolo, si chiama Paolo, non so, volevo che fosse... Vabbè, li monta! Allora, che qualcuno vuole fare il coro? Ma dai, cantiamo tutti insieme. Paolo, ventino, come fai a nasconderti, grosso come sei? E' timido! Venti! Allora, tutti insieme! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Paolone, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri Paolone, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te.